Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Cambiamo pianeta, prendiamone uno più facile, tu che dici? No, intermedio voglio fare. Vuoi fare? Sei stato tu a morire, eh? Io ho morto uno... Vuoi fare lo stesso pianeta nell'altra volta? Andiamo, forse. Entra nel help on. Ti faccio vedere io, ti faccio. Allora, io mi riprendo le stesse cose. Perché ti metti così lontano? Perché sennò non ci fanno chiamare un cazzo. Allora, io tolgo lo zaino che salta perché... Perché non serve a niente. No, perché c'è un'entità a schermo che mi uccide continuamente. Quindi è meglio che io prenda due robot. Ma perché prendi robot adesso, eh? Perché devo potermi difendere da te. Adesso prende i robot lui. Oddio, che palle! Perché cazzo esce quella cosa? Non so perché stia cross salvando qualcuno. Perché si è avviato? Io non ho toccato niente. Hai messo conferma per caso? No, non ho toccato niente. Io non ho toccato niente! Non ho... dal mio... non è toccato... Giuro che non sono stato io. Io non sono stato. Cioè io non posso... Cioè io conferma l'avevo messo all'inizio perché quello è il mio standard. E non lo devi fare! Perché sennò mi dai 5 secondi per scegliere la dotazione. Per quel cazzo. Ah, hai detto prima. E con cosa mi ritrovo? Col soppressore di merda? Non c'ho i colpi, no? Porca puttana, porca. Che strumentazione. Che bello, che bello. Campione, vado a prendere il campione. Ah, adesso lo prendi anche tu. Ma per forza! Perché sennò... Non posso fare questo. Ah, no, no! Lasciami stare! Ma perché mi... Ma lo vedete? Te lo rompo quella merda di cosa. Aspetta! No, ti fotti! Ti rendi conto della visuale che ho io mentre combattiamo? Se te ne vai per i cazzi tuoi. Me ne hai fotto, me ne hai fotto perché tu mi spari. Muovi. Guarda, guarda quanto sto... Mi hai tolto mezza tacca. E se stai sotto al vulcano te ne ho tolto mezza? No, mi ha tolto nulla il vulcano. Di qua. Di qua. Vedi che sinergio è aggressivo in questo gioco. Non ne faccio giocare. Perché non collabori. Ma cosa? Non è vero! Guarda, da solo è più facile. Ma non è vero! Fermo. che vado piano. Facciamo che tu ti metti da quella parte e io mi metto da questa. Facciamo che tanto questo qua, se cattura facile è facile. Beh. Mi vedo le cose di qua. Ma la vedete la noia di utilizzare i robot? A sto punto giochiamo a livello facile con le armi sgrave senza robot. Tanto è la stessa cosa. Perché stai... guarda che finiscono i colpi. Lo so. Lui denigra il robot. Non va bene. Vedi? Già sta piegando fuoco. Guarda, lui denigra il robot. Andiamo. Andiamo? Sei per morire. Io non ho sparato un colpo perché lui non me l'ha permesso. Muoviamoci un po' di più. Sì capo. Facciamo quello che dici tu. Tanto se no... Visto che tu non sai nemmeno che cazzo si deve fare nelle missioni. Che cosa dobbiamo fare in una missione sotto? Non lo sai. Come no? Ormai lo so. Quello è dei missili del cazzo. Allora fammela da sopra al robot se ci riesci. Dai fammi vedere se lo sa. Devo scendere. Tu sei lo 4. Tu attivi le cose. Devo scendere. Te pigati quella. Pirla. Allora. Dai. Mettila eh mi raccomando. Il robot rompe pure il cazzo. Proteggi il robot. Non mi fai sparare sopra la merda. No! Alca puttana. Proteggi il robot. Si stava grattando la fava. Ma cosa? Do... Mi stavano sparando addosso. Ma come faccio io? E' un cecchino che ti spara. Punta verso la fonte e spara. La fregnami da punto. Difendi. Difendi. Ma guarda che sei pazzesco. Occhio. Occhio. Dobbiamo giocare a livello difficile. Perché con il robot è troppo facile. Ah mo' è troppo facile. Si. Devi soltanto stare attento a quei cazzoni pieni d'acqua che... Io mi sto mimizzando con la base. Guarda. Non mi vedi. Non c'ho visuale. Non c'ho visuale. Ahhhh. Ma vediamo se c'è visuale. Ti piace così? Guarda che io ho il comando. Tu no. Attento che c'è quello che pensi che sia buggato. E' buggato quello. Difendi. Difendi. Mittala. Io lo odio. Lo sai? Ma poi perché non salva? Comunque ma questi senza testa sono normali. Eh? Sono tutti senza testa. Ma gli illuminati sono creature strane. Sono metà fra esseri mistici e cyborg. Eh quanto è divertente questo gioco. Ah con i robot per forza. Ah con i robot morto. Stai facendo abbraccio di ferro con tuo cugino di sei anni. E' normale che non ti diverti. Quanto è difficile questo gioco. Giù. Ah che fa. A Redex gioca così io non l'avessi mai shoppate ste cose. E' lo shoppate perché un domani arrivi ai livelli difficili e usi le armi sgrave. Oh ma ti ho detto io. T'ho detto io assieme. Andiamo a. Fermo. T'ho detto io assieme. Andiamo a. Difficile. Io. Io. Io sono sceso da robot per quattro decimi di secondo. Mi sono ritrovato morto proteggilo io. Ma come fai ad arrivare là? E mi posso teletrasportare mo? Allora. Cioè non lo so. Ok siamo sull'obiettivo. Che devi fa? Ti distrugge. Devo dirti la verità non ho mai visto questi cosi perché la guerra degli illuminati l'abbiamo persa da un pezzo. Vabbè. Chiedo che si debbano tipo disattivare. Provo a scendere guarda. Scenderemo. Che cazzo dobbiamo fare? Distruggi. Ah. Distruggi i raggi. Ah. Fermo. Fermo. Fermo là. Vattene. Vattene immediatamente da. Aspetta eh. Non così non così che non vedo un cazzo. Porco il demonio. Non mi protegge ragazza. Ma 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 ma. Scendi. Lo vedi quella cosa? La vedi quella cosa? Ma ognuno si fa la missione per i fatti suoi. No. No devi andare là se non finisci la missione. Non la voglio finire. Peccato che non l'ho ucciso. Eh. Sti uova di Pasqua qua. Guarda qua sto. Arco zizzero. Allo. Madonna. Allora. Vattene. Che cazzo è quello? Vattene basta. È una bomba. Mi hai ammazzato figlio di puttana. Ti ho detto vattene. Finca di puttana. Tutto ergiversario. Ho detto vattene. Madonna quando mi fa schifo sta pistola l'ho presa. Mi fa proprio schifo. E l'ho ripresa. Oh no. Ancora questo vivo. Sei morto? Sono morto ma occhio c'è una sentinata giusto dietro. Vedi l'ombra? Manza le piante. Non ti avvicinare perché hai mai tirato in un punto in cui la... La capsula sbaglia. Perché non muore? Andiamo. Allora che ci rimane da fare. Non andò sto l'ombicoglione spesso. Un attimo. Fermo. Perché continui a andare avanti? Allora. Vai sopra. Sito Sam. Diffici sta partita. Ma quanto tempo staremo giocando secondo te? Non lo so. Spero meno di 14 minuti. Dai abbiamo quasi fatto. Dobbiamo passare soltanto in questo inferno. Aaaaah. Drutto il cavolo. Ok di qua. Di qua. Facciamo la missione alla chitica. Aaaaah. Attenzione. Attenzione. No ma ti fa male. Vai. Ok difendimi perché... Porca puccana. Porca puccana. E' bello il rumore di quando. Vai. Oh adesso vogliamo giù verso l'estrazione. Vaia. Vai. Vai. Vai estrazione. Abbiamo fatto. Penso di sì. Attenzione. Dove cazzo come fa a tirare? Giù. Mo. Una piccola... Porca pucca. Io non l'ho visto. Eh ma mi hanno fiocinato mentre mettevo il codice per chiamare lo shuttle. Ce l'hai le torrette? Eh l'ho messa. Mi hai fatto spuntare? No non lo sai tu. Ho voluto. Donna che mo schiattavo la torretta proprio di cattiveria. Aaaaaah. Aaaaaah. Perché si è rotta la torretta? Perché gli hai sparato alla torretta. Non è stata colpa mia. Porca pucca. Una ne tenevi. Aspetta. E tra l'altro io sono morto perché qualcuno mi ha buttato. No. Ecco qui. Qualcuno mi ha buttato nel fuoco. Io ti porterò. Ti porterò in salvo amico mio. Tu hai chiamato un robot. Il mio robot. Hai capito? Loro lo prenderanno lì. Si è vero. Se la prenderanno con il robot. Però. E' importante questa cosa. Il robot diversivo di Redez. Tu sei. Tu sei come il robot. Solo che ti muovi. Mi togli quella cosa il nemico. Sono morto. Mi hai fatto. Non si è accorto che sono morto. Però lo so che sei morto. Porco. Lo so che sei morto. Solo che io devo aspettare che torni. E allora come faccio a toglierti quella cosa da là. Se non ci sono. No quella sopra a destra. Quella che è. Ah e che cazzo ne so perché ci sta. Dai. Oh merda. Succede sempre così. Vai. Sali. Vai su. Che partita brutta e sporca. Ma perché? Ti ho salvato la vita. Che schifo di partita. Va bene ragazzi ci vediamo alla prossima. Che è lottato tutto per me. È lottato tutto per me.